3, 1, via! Vai, vai! Brava, bravissima, ferma, 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 hai vinto! Premio 7B! Ricordiamo ancora stasera, grande serata! Ci teniamo a ricordarlo perché è uno degli appuntamenti più importanti. L'Antinna Mare che organizza tutto ciò, due giorni intensi. Questo pomeriggio, stasera, domani pomeriggio con i balli in acqua latinoamericano e non solo. Vincono il premio numero 7 offerto dall'Instagram di Angelo Biondo. Più un viaggio in treno, in treno, viaggio in treno.